Ben trovati, siamo Anarita Morelli e Andrea Maggi di Remax Stella Polare. Siamo a Bari, nei pressi di via Colella, vicinissimi alla chiesa di Santa Maria Martalena di via Giulio Petroni, una zona molto interessante e molto richiesta sul mercato immobiliare balezza. Andiamo a vedere questo appartamento Andrea? Andiamo! Andiamo! Ben ritrovati, oggi stiamo parlando di un luminosissimo Trebani con ampio balcone. Questo immobile ha un grande potenziale. Io vi inviterei a guardare il resto. Questa casa richiede una ristrutturazione non particolarmente impegnativa. Inoltre i bonus statali previsti la rendono un vero affare. Puoi avere una casa come vuoi tu a un prezzo particolarmente conveniente. Se questa casa vi è piaciuta, chiamateci. Stella Polare, l'immobiliare di riferimento.